Sì, sì, con il numero, è facile, se il numero è il numero 7 E il trenino, il tramvia, 5 km e mezz'ora E dopo avrete fino alle 4 e 10 tempo libero in città Soglier è molto bella, molto interessante Qui è un'altra, è molto bella Non è bella Oggi il mare non c'è nessuna ola Questo, questo, è, belongs to the family Marca Manca Marca, in Mallorca, a lot of offices A destra, questa montagna a destra, è della famiglia Marca La più rica di Mallorca Quando vivia il abuelo di Dormarca, Marcialo, era una... È molto meglio che il Sommaro Per l'automazione Per l'automazione Per l'automazione È un'automazione È un'automazione 45 minuti, io le doy il ticket otra vez e nos acercamos a Tramia Financiar for a thousand system in Spagna Mi è di Angestelta in Rima, sufrì Ima Ima no di a weiter generazione ma generata in ein Bauhof Qu'è? Qu'è? Qu'è?! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info